Musica E' una delle manifestazioni più importanti che abbiamo sul nostro territorio è cresciuta da livello strettamente locale a nazionale e internazionale Non ha la grande importanza di chi vince e non chi perde ma solamente di creare un movimento, fare amicizia certamente molti non parleranno le lingue però mentre stanno facendo lo sport e gareggiando assieme c'è una lingua che è uguale per tutti E' molto divertente e internazionale E' molto divertente Divertimento Voglio andare avanti Ilusione e Compañerismo